Ci sentiamo presi in giro. E' furioso il sindaco di Bari, Antonio De Caro, dopo che la soprintendenza ha dato parere favorevole ai lavori di realizzazione dell'edificio di Tre Piani a Largo Santa Chiara, nella città vecchia, ormai definito Ecomostro. In una conferenza stampa De Caro e l'assessore all'urbanistica Carla Tedesco hanno stigmatizzato il comportamento dell'ufficio e dei beni culturali, che pur prendendo atto della presenza del vincolo nell'area in cui si sta realizzando un edificio del provveditorato alle opere pubbliche nei pressi del Castello Svevo, ha dichiarato di confermare il parere favorevole, consentendo così la continuazione dei lavori. Abbiamo ricevuto la nota della soprintendenza, spiega De Caro, nella quale l'ente riconosce la sussistenza del vincolo, ma afferma che siccome l'area interessata ha già subito nel tempo modifiche di carattere strutturale con la realizzazione di numerosi edifici, quel vincolo non ha lo stesso valore che aveva negli anni 30. In sostanza la sovrintendenza permette al provveditorato alle opere pubbliche di procedere con i lavori, a patto però che coopera l'edificio con delle alberature, in particolare 45 nuove piante di alto e medio fusto, aggiungendo l'essenza di pitosforo. Il sindaco va giù pesante dopo aver dichiarato arrogante l'atto dell'organo periferico dello Stato, sostiene che il Comune porrà fine ad ogni tipo di collaborazione con la sovrintendenza, facendo riferimento anche alle varie attenzioni prestate per i vari lavori in corso in città, attenendosi alle indicazioni, anche verbali, della stessa sovrintendenza. Sull'opera, tra l'altro, è stata aperta l'inchiesta dalla Procura di Bari.